Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi torniamo a parlare di Parkside e lo facciamo con la mia troncatrice radiale multimateriale. Allora, attrezzo che possego ormai da un annetto e mezzo, sono un po' a ritardo con la recensione, questo vuol dire però che l'ho testata veramente bene. Allora, l'ho comprata per tagliare delle zoccoline a Milano, che erano troppo larghi a casa di un cliente, con le mie due Makita, che non sono radiali, non riuscivo a tagliarle, questa era in promozione alla Lidl, quindi ho deciso di comprarla. Allora, macchina che si comporta veramente bene, funziona benissimo, la sto utilizzando anche per uso professionale, non taglio legni duri, taglio più che altro legni di multistrato, spessi 2 cm, larghi al massimo 14 cm, quindi legno abbastanza morbido. Però quando la utilizzo una volta ogni 2-3 settimane per costruire dei falsi telai per i serramenti, la utilizzo veramente tanto, faccio anche 100-200 tagli alla volta. Macchina che si comporta veramente, veramente bene, anche quando è sotto stress. Allora, macchina radiale, vi dicevo, cosa vuol dire? Vuol dire che tramite queste due guide che sono poste sul retro, possiamo effettuarla, come vedete, per fare dei tagli molto lunghi, come si chiama rispetto, come si dice alle troncatrici normali. Questa riesce a effettuare tagli larghi anche 34 cm. Io l'ho utilizzata, come vedete nel video, per tagliare legni larghi 56 cm. Come vedete, questo è legno di ciliegio, quindi legno molto duro. La macchina non ha avuto problemi a fare anche la ripresa, quindi tagliarlo da una parte e poi girare il pezzo e tagliarlo dall'altra. La macchina ha tagliato veramente, veramente bene. Allora, poi, come si dice, come vi dicevo, è anche una macchina multimateriale. Multimateriale cosa vuol dire? Vuol dire che ha due velocità, con queste due velocità possiamo tagliare sia il metallo che il legno. Allora, prima velocità, 3200 giri, quindi la macchina taglia più, come si chiama, il disco gira più piano e serve per tagliare i materiali come l'alluminio. Io vi sconsiglio di utilizzarla per tagliare l'acciaio o il ferro perché andrete a rovinarla subito. Ricordatevi che comunque sia, è una macchina per linea obistica. Poi, seconda velocità, 4800 giri, quindi il disco gira più veloce e va benissimo per tagliare il legno. Taglia qualsiasi tipo di legno, taglia il legno veramente, veramente bene. Come vi dicevo, io ne sono veramente, è veramente contento. Allora, in questo video vi parlo delle caratteristiche. Non mi metterò qua a farvi vedere il test che taglio il pezzettino di legno di qua, il pezzettino di legno di là perché, come vi dicevo, la macchina funziona benissimo. Al massimo metterò dentro qualche pezzettino di video passato, giusto per farvi vedere il funzionamento. Ci tengo a farvi vedere come è costruita e come si utilizza perché, chiaramente, essendo un po' diversa dalle troncatrici normali, come si dice, magari qualcuno prima di comprarla vuole vedere il funzionamento. Incominciamo col vedere tutte le regolazioni che ha il pianale. Tanto per iniziare, se guardiamo, il pianale è completamente costruito in alluminio, quindi molto leggero. Come vedete ha una linea molto più pronunciata, cioè questa guida che è molto più pronunciata rispetto alle troncatrici normali. Questo chiaramente serve per avere un appoggio sia per i pannelli che, chiaramente, anche per le tavole. Perché, se vi ricordate, la macchina taglia fino a 34 centimetri. Allora, guida che chiaramente si può spostare perché la macchina può tagliare in direzione sia verso destra che verso sinistra di 45 gradi. Come vedete qua ci sono due leve. Allora, la prima leva serve per spostare la guida e fare dei tagli con gradi già impostati dalla ditta, che sono 15 gradi, 22 gradi e 5, 30 gradi e 45 gradi. Quindi, alziamo la leva, 15 gradi, 22 gradi e 5, 30 e 45. Chiaramente fa lo stesso anche dall'altra parte. Ovviamente, possiamo anche tagliare i legni in qualsiasi gradi vogliamo. Per esempio, se io vado a 16 gradi, sposto la macchina fino a 16 gradi e abbasso la leva che troviamo in alto. Come vedete, la guida rimane bloccata, pronta per tagliare. Sblocchiamo e torniamo a 0 gradi. Qui dietro troviamo le prime due farfalline che, svitandole, agiamo su questi due pianetti. Questi due pianetti servono sia per avere un piano d'appoggio più largo, ma alzando, come vedete, queste levi che ci sono sia da una parte o dall'altra, possiamo avere delle regolazioni per fare dei tagli in serio. Svitando le altre due farfallette che troviamo in alto, abbiamo la possibilità di allargare anche il piano in altezza. Così, se dobbiamo tagliare dei legni alti, abbiamo un supporto più comodo per lavorare. Ultima vite con la farfalla che serve per il bloccaggio delle morse. Ora vi spiego come funzionano le morse. Nella scatola ce ne sono due, ma se ne utilizzerà praticamente sempre una. Anch'io, chiaramente come voi, vado a guardare le recensioni su internet perché chiaramente sia un po' per informazione, ma anche quando devo andare a comprare una macchina. Quasi tutti vi dicono che la morsa è stata messa in un punto sbagliato qui perché quando andiamo ad abbassare la macchina, il motore tocca contro il morsetto. In realtà non è così, perché quando andiamo a tagliare legni a 90 gradi, la morsa deve essere messa sempre e solamente da questa parte. Legno fisso, macchina che taglia, e poi legno che andrà a muoversi. Se noi mettiamo due morsetti, la lama andrà in blocco sul legno, chiaramente soprattutto se andiamo a tagliare dei legni masselli, dei legni molto duri e magari anche alti, rischiamo di bruciare la lama perché andrà a bloccarsi, oppure anche di rovinare la lama perché, come si chiama, se il legno è duro si storterà la lama. Come vedete, la lama ha fatto fatica a tagliare questo legno molto grosso e l'ha bruciato. Questo è l'effetto che si forma se noi andiamo a bloccare il legno da tutte e due le parti. Il morsetto si monta da questa parte quando noi andremo a effettuare dei tagli obliqui a 45 gradi. Questo perché fisseremo il legno di qua perché sarà più facile da guardare, ovviamente non andremo a mettere il blocco di qua perché non vedremo bene dove andremo a tagliare. Quindi il legno si infilerà da questa parte, in blocco la macchina taglia e il legno tagliato si muoverà da questa parte. Come vedete, qui dietro troviamo il blocco con i gradi segnati per poter inclinare la macchina fino a 45 gradi. La macchina si farà dei tagli obliqui solamente dalla parte verso sinistra. e non chiaramente verso destra. Qui in alto troviamo leva per azionare la macchina, pulsante per lo sblocco della leva. Se noi non andiamo a schiacciare questo pulsante, la macchina rimarrà, come vedete, in blocco. Quindi schiaccio del pulsante. Macchina che parte. Poi troviamo due pulsanti. Pulsante schiacciato in posizione 1 per, chiaramente, il motore regolato a 3.200 giri. Pulsante in posizione 2, chiaramente, per il motore attivato a 4.800 giri. Qui troviamo il pulsante per l'accensione della luce e del laser che ci indica dove andremo a tagliare. Schiacciamo la prima volta il pulsante, come vedrete, il laser ci indica dove la lama andrà a tagliare. Seconda volta si accenderanno due luci alla head. Queste luci sono comodissime per vedere quando abbiamo poca luce. Se schiacciamo la terza volta, si accenderanno sia le luci che, chiaramente, il laser. Quarto tocco, chiaramente, si spegne tutto. Ultima cosa da vedere, sacchetto per la raccolta delle polveri. Possiamo utilizzare sia il sacchetto che, se andiamo a staccarlo, possiamo collegare un aspirapolvere o un sistema per la raccolta dei truccioli. Allora, blocco della macchina. Se avvitiamo questa farfalla, come vedete, la macchina rimarrà fissa. E anche blocco per la testa. Ultima regolazione che troviamo qua dietro è una vite. Più la avvitiamo, più la testa scenderà di meno. Quindi, regolazione per il taglio. Allora, se noi avvitiamo, poi andremo a bloccare. Possiamo fare tanti tagli in sequenza, tenendo la troncatrice sempre alla stessa altezza. Siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Allora, tiriamo le conclusioni. Macchina che, secondo me, funziona benissimo. Motore che sembra potentissimo. 2000 W di potenza. In realtà, non è così. Secondo me, sono andati a sopperire il fatto di aver utilizzato un motore a basso costo mettendo un motore un po' più potente. Di solito queste macchine hanno motori dai 1500-1700 W. Questa è un motore da 2000 W. Ma ho notato che quando taglio dei legni come il faggio o l'altra volta il ciliegio la macchina fa un po' fatica a tagliare. Quando ho utilizzato la mia Makita, che è 1400 W, non ha sforzato così tanto. Comunque, macchina che diciamo è un entry level, non ci possiamo aspettare niente di più. Macchina che fa il suo dovere. Allora, cosa mi è piaciuta poi anche di questa macchina? Il fatto che, tanto per iniziare, ha un disco da 25,5. Di regola invece queste macchine, soprattutto quelle professionali, hanno un disco da 31. avendo un disco da 25, la testa è più compatta, quindi è più piccola. Mi piace che è stata costruita completamente in metallo e in alluminio, così è leggera. Se la metto di fianco alla mia Makita, noterete subito che questo è un po' più scarso come materiale. Il materiale è un po' più fine. Questo potrà sembrare una pecca. In realtà a me piace tantissimo perché è molto comoda da trasportare. Perché è piccola e anche molto più leggera rispetto alle altre. Quindi è più comoda da trasportare quando vado in giro, ma anche comodissima da spostare qui in officina. Niente, spero che vi sia piaciuto il video. Mettete un like se vi è piaciuto. Ci vediamo la prossima settimana e buona domenica.